Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti a questa che è l'ultima tribuna elettorale di Reteotto in collaborazione con il centro per le elezioni amministrative 2022, siamo al fuoco conclusivo di questa pirotecnica campagna elettorale che abbiamo seguito sin dalle prime battute in 49 comuni abruzzesi e questa sera non potevamo non concludere con il comune più importante rimasto ancora da assegnare per quel che riguarda la nuova amministrazione comunale. Parliamo di Ortona, siamo a Palazzo Corvo, uno dei posti più importanti della città perché sede dell'Istituto Nazionale Tostiano che ringraziamo per ospitarci in questa occasione e siamo qui con i due candidati che si sfideranno per la poltrona di sindaco della città. Elezione che avverrà, lo ricordiamo, domenica dalle 7 alle 23, dalle 22 e 45, noi seguiremo con una diretta sempre qui da Ortona ma anche da San Salvo dove c'è l'altro ballottaggio i risultati e i commenti in tempo reale. Assieme anche questa volta al quotidiano Il Centro che è qui presente e ringrazio ancora il collega Orlando che farà le domande ai due candidati e sindaci che si sfidano tra qualche ora ormai nelle urne. I due candidati in ordine di sorteggio avvenuto precedentemente alla trasmissione, li conoscete, li conoscono soprattutto i cittadini di Ortona, sono Leo Castiglione, buonasera, sindaco uscente di Ortona e Ilario Cocciola, buonasera, secondo arrivato nel primo turno. Gli elettori di Ortona sono 22.098, alle urne si sono recati nel primo turno 12.280, una percentuale del 58,29%, Castiglione ha ottenuto il 42.25%, Cocciola il 35.13% e poi c'è un 20.39% di Di Nardo che in questa occasione consideriamo perché le sue liste si sono apparentate con il candidato Cocciola proprio nella giornata di sabato scorso, apparentamento ufficiale consentito dalla legge elettorale che cambierebbe in qualunque caso comunque la composizione del Consiglio Comunale rispetto agli equilibri del primo turno e questo sarà sicuramente uno dei temi del confronto tra i due candidati, ripeto è stato sorteggiato prima nella risposta a Castiglione, gli faccio subito la prima domanda, ci sarà un ordine che rispetteremo per tre domande, poi alterneremo anche qui l'ordine di risposta. Castiglione io le chiedo come ha trascorso intanto questa doppia settimana di campagna elettorale bis, se era quella che si aspettava alla luce anche del tema del parentamento che affronteremo sicuramente anche con le domande un po' più specifiche del collega Orlando, soprattutto qual è il suo stato d'animo adesso che siamo ormai a un'ora e qualcosa in più al termine di questa lunga campagna elettorale che ha vissuto veramente due momenti quasi diversi contrapposti tra loro. Castiglione? Ma guardi, ho stato d'animo di totale serenità perché abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ad oggi abbiamo fatto 54 comizi e 54 incontri con i cittadini con cui ci siamo confrontati dopo il periodo della pandemia che un po' aveva allontanato appunto il rapporto diretto cittadino-istituzioni, siamo sereni perché abbiamo portato avanti il nostro progetto, il nostro progetto civico, abbiamo continuato a spiegare quello che era il nostro programma elettorale basato sul lavoro fatto in questi cinque anni ma soprattutto su quello da fare e quindi non possiamo che essere sereni nella consapevolezza che i cittadini valuteranno il lavoro svolto, valuteranno il programma o meglio i programmi elettorali che sono cambiati in corso d'opera e chi invece è rimasto coerente e fedele sia verso lo stesso programma ma soprattutto verso i cittadini e verso gli stessi candidati che appunto hanno sposato un progetto e per questo si sono presentati ai cittadini chiedendo loro il consenso. Quindi siamo veramente sereni, felici, contenti, anche un po' stanchi logicamente perché insomma una campagna elettorale è stata molto intensa ma dall'altra parte c'è la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era possibile e di aver trovato riscontro tra i cittadini nell'apprezzamento del lavoro svolto e di quello che abbiamo proposto per i prossimi cinque anni. Grazie. Cocciola, generalmente come si dice il ballottaggio è sempre una partita diversa rispetto al primo turno, a questo proposito su Ortona veramente lo è in maniera ancora più evidente alla luce dell'apparentamento. Ecco, la differenza tra la prima parte e la seconda parte di questa campagna elettorale? Beh, la differenza sostanzialmente non c'è per noi. Guardi, qui sono andati al secondo turno due gruppi. A me mi si attribuisce una comunità politica che però non si è voluta dichiarare perché si è dichiarata questa comunità politica, cioè quella del PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, attraverso la propria classe dirigente non si è presentata, Leone ha preferito accettare l'invito del sindaco di non presentare la lista, le liste, di non presentare gli stemmi, di non presentare la propria classe dirigente, quindi è una comunità politica che francamente ha rinunciato a presentarsi, se non in maniera camuffata, l'abbiamo definito, ma io penso che tutta Ortona lo sappia. Quindi c'è questa classe dirigente che si è alleata con il sindaco, è un civismo di facciata. Noi abbiamo fatto una riflessione nel primo turno, abbiamo portato il nostro programma con il nostro progetto, un progetto fatto di sogni che possono essere concretizzati, ma penso che li vedremo, li sentiremo più in là con altre domande. Questo progetto è stato accettato da gran parte della città, io ho preso più voti delle liste, il mio competitor ha preso meno voti delle liste ed è stato accettato in maniera importante, considerate che chi va al sindaco al primo turno normalmente si avvicina alla vittoria. Tuttavia avevamo un blocco, c'è stato un patto ad escludendum, cioè noi si pensava che dovessimo rimanere fermi, perché con quella situazione precedente che ho narrato, cioè che non dovevano presentarsi le liste del centro-sinistra perché dovevano essere nascoste, ma ricordiamoci anche Mauro Febbo con Forza Italia all'interno del gruppo del sindaco Castiglione, io non potevo attingere a quella comunità politica, ma dovevo presentare solo il mio programma e al tempo stesso l'altro competitor, Angelo Di Nardo, aveva monca la parte iniziale sul Forza Italia, al ballottaggio c'è stata una sorta di scommessa, Ilario Cocciola non potrà prendere voti di qua perché scatterebbe il dileggio come obiettivamente e francamente scattato, ma certamente si scommetteva sul fatto che non avessi il coraggio e la forza di avere un'alleanza con Angelo Di Nardo, bene la cosa più bella che mi abbia detto Angelo Di Nardo è stata questa, quando ci siamo incontrati, il nostro elettorato ti ritiene il miglior sindaco di Ortona al di là delle tue idee, non capiamo perché il centro-sinistra ti abbia fatto questo blocco nella fase iniziale, io sono partito due anni fa, ma lo capiamo perché è una divisione del potere, un attingere a mani basse per il futuro delle prossime elezioni regionali e politiche, però il nostro popolo dice che tu sei il miglior sindaco di Ortona e quindi però mi ha chiesto, vogliamo un apparentamento ufficiale, perché se gli altri hanno fatto le cose di nascosto non le vogliamo fare di nascosto e quindi ci siamo apparentati anche perché il programma è stato pienamente accettato così come l'abbiamo proposto. Allora Rossano, siamo entrati già un po' sul tema che sta ovviamente caratterizzando la vita politica e cittadina in queste settimane e quindi penso che andrei avanti su questa falsariga. Sì, comunque buonasera a tutti e grazie dell'invito. Io volevo fare un attimo un passo indietro con i candidati al sindaco e chiedere loro come si è arrivati alla scelta vostra come candidati ad essere primi cittadini di questa città. Lo dico, questa è una domanda che può sembrare scontata per quanto riguarda il sindaco uscente Castiglione perché avrebbe comunque avuto la possibilità di impegnarsi in un secondo mandato, mentre Cocciola oggi rappresenta l'alternativa a Castiglione. Ecco, ci potete raccontare un po' come si è arrivati alla scelta su di voi? Grazie. Castiglione. La mia candidatura è nata per volontà del gruppo e del progetto iniziato nel 2017, io dico nel 2015, quando il sindaco Castiglione allora militava all'interno della lista civica insieme per cambiare nell'area di centrodestra, decise e comunicò nelle sedi opportune, cioè nel Consiglio Comunale, di uscire da quella lista civica, di uscire dall'area di centrodestra e di iniziare un progetto civico che portò alla nascita della mia associazione culturale e il Comune delle Idee, dalla quale poi sono nate le due liste civiche che mi hanno portato a diventare sindaco della città. Questo progetto va avanti, si è arricchito, eravamo 32 candidati, oggi 80 persone, libere, senza riferimenti a partiti, senza tessere di partito, hanno sposato il progetto, un progetto che è stato presentato nuovamente alla città prima del 12 giugno, cosa invece che non è avvenuta dall'altra parte, perché i cittadini sapevano qual era il progetto di Leo Castiglione, un progetto, un cantiere aperto dove chiunque può entrare per lavorare per la città a prescindere dalle ideologie. Le ideologie, sì è vero, devono collaborare, devono fare sintesi, ma questo va detto prima al cittadino ed è quello che noi abbiamo fatto e non a caso 5291 ortonesi hanno scelto di confermare il progetto civico di Leo Castiglione. Quindi questi riferimenti a partiti di destra, di sinistra non appartengono al sottoscritto e al mio progetto civico, perché continuerò su questa linea accogliendo persone che vogliono lavorare per il bene della città, come ho fatto nei 5 anni di amministrazione, quando avendo bisogno di alcuni profili ho inserito un assessore che era stata candidata con il centro-sinistra e un assessore che era stato candidato con il centro-destra. Però credo che l'importanza sia la trasparenza, la trasparenza e la coerenza, perché al cittadino il proprio progetto politico va scelto prima, non durante il ballottaggio, quando poi si trovano varie motivazioni per far credere quello che non è, perché non è stato un matrimonio, anzi io credo che il fidanzamento sia partito già da prima del 12 giugno, perché guarda caso io ricordo che in tutte le campagne elettorali di solito il centro-sinistra, la destra si sono sempre beccate politicamente parlando, invece in questa campagna elettorale c'è stata un'unica linea di condotta che è quella di attaccare il sindaco Castiglione, quindi adesso a carte scoperte posso dire tranquillamente che mi è sembrato la prima una fase di fidanzamento per arrivare poi al matrimonio che è avvenuto sabato scorso. Con tanti auguri per chi ha deciso di sposarsi, sperando che potranno, qualora dovessero vincere, io mi auguro di no, di garantire stabilità e governabilità alla nostra città perché quello merita. Allora, Ilario Coccio, restando sul tema, allora sposo per rispondere alla domanda di Rossano, per un colpo di fulmine oppure perché comunque c'era un'idea di opposizione a Castiglione che nasceva dall'inizio? Allora facciamo un passo indietro, io ho partecipato alle riunioni del tavolo del centro-sinistra, sono andato via perché gli amici di sempre, era di tutta evidenza, gli amici di sempre parliamo di Franco Musa, segretario del Partito Democratico, Cristiana Canosa, Camillo D'Alessandro, insomma gli amici di sempre non volevano costruire un vero e proprio tavolo politico, successivamente quelli che sono rimasti ortona popolare e ortona territorio, anche questi hanno capito che in realtà si stava facendo tutta una mossa, io sono partito due anni fa, tutta una mossa per far credere di voler creare un tavolo per poi farlo saltare e anche quelle due liste sono andate via e sono entrate nella mia coalizione iniziale che era già composta da tre liste, successivamente la lista di Ortona Cambia che pensava invece che fosse possibile costruire un percorso, ha lasciato quel gruppo, dunque noi ci siamo allargati dall'inizio perché il progetto politico dell'area del centro-sinistra e del sindaco era ben chiaro, bloccare quel tavolo, bloccare quell'area per aggregarla a sé, di fatto se l'amministrazione uscente fosse rimasta senza le liste del centro-sinistra camuffate, cioè PD e Movimento 5 Stelle e senza Forza Italia camuffata si sarebbe presentata l'elettorato con tre liste e non con cinque. Noi abbiamo fatto quindi un percorso trasparente, poi quanto al fidanzamento giusto per stare sui temi e sulla domanda? Bene, guardate noi abbiamo sei, tutti i consiglieri comunali di opposizione sono passati da questa parte fin dall'inizio, sono passati da questa parte semplicemente perché c'è una contestazione alla gestione amministrativa di questa città e questa contestazione di chi era in opposizione poi era naturale che si ritrovasse unita, cioè noi abbiamo un modello di città che non siamo contro Castiglione, noi siamo contro il modello di città che propone Castiglione e quindi è stato naturale ritrovarsi, quindi nessun fidanzamento se non per il fatto che questo modello di città che ci ha consegnato Castiglione non piace proprio a nessuno, tant'è ripeto se non ci fossero state le due liste d'appoggio ovviamente che dovevano bloccare la crescita di altre, ecco che noi sarebbe stata ben scanna la coalizione di Castiglione e questo è un dato di fatto, Laura Iubatti una consigliera comunale di opposizione che era nel PD e che ancora oggi è nel PD ci ha narrato tutto questo perché era lì presente anche al direttivo, il direttivo di un partito, il PD che ha votato di non mettere lo stemma e di appoggiare Castiglione, quindi la trasparenza vi sembra una cosa molto lontana. Rossano, altra domanda. Sì, una fetta importante dell'elettorato ortonese non è andata alle urne due settimane fa, quale dovrebbe essere la giusta motivazione che porta questa parte dell'elettorato a tornare praticamente ai seggi domenica ad esprimere la preferenza a voi? Castiglione. Innanzitutto voglio un attimo correggere un'affermazione del mio collega candidato Cocciola, noi solamente con le tre liste, visto che ha parlato solo delle tre liste, Comune delle Idee, Cittadini Consapevoli e La Città Ideale avremmo ottenuto circa 3.800 voti, quindi già solamente con le tre liste avremmo superato la sua coalizione, quindi giusto per precisione di numeri e di dati. Io credo che il motivo per cui i cittadini debbano tornare a votare sicuramente è per dare un segnale forte, un segnale forte anche a chi ha fatto questa campagna elettorale in un modo molto, diciamo abbastanza pesante, andando molto sul personale, poco sui contenuti. Noi abbiamo sempre mantenuto il nostro stile, cioè quello di parlare semplicemente dei nostri programmi, abbiamo reagito solamente o io in prima persona lo posso dire tranquillamente a delle accuse infamanti che mi erano state rivolte da qualche candidato sindaco, quindi è stato semplicemente un atto di difesa ma dovuta verso la città, ma i cittadini sapevano che tutto quello che è stato detto non corrispondeva alla verità, quindi solo in una occasione è accaduto questo. Per il resto siamo andati nelle piazze a parlare sotto i balconi ai cittadini del nostro programma e di quello che vogliamo fare. Allora la risposta dei cittadini deve essere proprio questa, valutare quello che è successo in campagna elettorale, valutare il lavoro che è stato fatto nei 5 anni e quello che è stato fatto nei 10 anni, perché l'amministrazione che si presenta, la coalizione Cocciola è la stessa di 10 anni fa, allora c'era Dottavio sindaco ma adesso c'è Cocciola, ma Coletti e Dottavio sono sempre lì, quindi è la stessa coalizione, io dico aggravata ancora di più da quella componente di destra che si contrappone un po' a quelle che sono state le dichiarazioni del mio amico candidato Cocciola che all'inizio si era proposta come leader di una coalizione moderata progressista che guardava forze moderate ma non alla destra, quindi io vedo delle incongruenze su questo apparentamento che i cittadini dovranno valutare serenamente, io nei comizi ho puntato molto sulla continuità amministrativa e sulla governabilità, noi per 5 anni abbiamo approvato tutte le delibere di giunta, di consiglio comunale, 11 voti della maggioranza e 6 della minoranza, tranne una delibera per un problema di conflitto di interesse di un consigliere comunale, io credo che sia un dato storico e i cittadini non possono non valutare questo elemento proprio a fronte di quello che invece era successo con l'amministrazione d'Ottavio dove il candidato Cocciola era Presidente del Consiglio Comunale. Coccio, mi sono perso la domanda. La domanda era relativa alla motivazione dell'elettorato. Per portarlo alle urna. Per portarlo, noi siamo per la discontinuità, guardate ora parliamoci fuori dai denti, questa è una città seduta e assente da tutto, noi abbiamo fatto il programma amministrativo basandoci sulle linee guida del PNRR, mai si è vista un'ondata di soldi come questa, in tutte le amministrazioni. Noi abbiamo capito che per sollevare questa città si deve ripartire da capo, ma con una certa velocità, quindi il nostro programma è impostato in una maniera tale che si possa subito invertire la rotta e accedere a quei finanziamenti che ci stanno passando sulla testa e non li prendiamo se non occasionalmente, rispetto ad altri comuni. quindi noi abbiamo fatto un programma importante per dare la concretezza di un sogno, ne dico uno, il recupero dell'area della Sangritana con il tracciato ciclopedonale che possa arrivare fino alle porte di Orsogna, ma che al contempo possa arrivare giù a Riccio e possa arrivare alla parte bassa di Ortona sull'altra pista ciclopedonale della Via Verde. Proseguire la pista ciclopedonale che per 5 anni è stata ferma, finisce sotto ai ripari di Giobbe questo tabù, ma non è andata oltre. Io non dico che l'amministrazione Castiglione sia contraria, non lo dico questo, ma per 5 anni non è andata oltre e ha sempre questo sguardo retrospettivo su chi c'è e chi non c'è, ma la città è ferma, non abbiamo aperto un ufficio PNRR, non abbiamo aperto un ufficio ZES, eppure la ZES si fa ad Ortona, perché Ortona è il porto nazionale, non Vasto, Vasto ha aperto invece un ufficio ZES, Vasto rivendica, perché ha capito l'importanza anche sotto il profilo dei finanziamenti, di diventare porto nazionale e nonostante Luciano D'Alfonso abbia detto farò un emendamento, il nostro sindaco non ha detto niente. Siamo assenti nel Consiglio d'amministrazione della Sasi, eppure siamo il terzo comune, siamo assenti nell'autorità di sistema portuale, dove siamo il porto più importante d'Abruzzo, il secondo porto tra Marche ed Abruzzo, quindi noi siamo per la totale discontinuità, se la continuità è quella dei tappeti d'asfalto, francamente noi li faremo, ma li faremo a tempo debito e con le risorse opportune, ma la città si deve rialzare, deve ritrovare lavoro, deve crescere, è stato sbagliato tutto, anche la proposta di perimetrazione dell'area ZES, questa è una città seduta, perdiamo 1000 abitanti, adesso abbiamo visto la statistica recente, addirittura siamo a 1500 abitanti, negli ultimi 4 anni, 5 anni, Francavilla aveva 2000 abitanti meno di Ortona, oggi ha 2000 abitanti più di Ortona, il piano demaniale marittimo è rimasto nei cassetti per 5 anni, è tutto bloccato, discontinuità assoluta. Altra domanda, ma da adesso invertiamo l'ordine delle risposte per tre domande consecutive. Qualche giorno fa è stato presentato il Cammino Grande di Celestino, che riguarda anche la vostra città in sostanza, Silone sosteneva che una delle virtù di Celestino era quella di avere comunque anteposto alla coscienza al potere politico, tant'è che poi si era dimesso. Ecco, nelle vostre scelte fatte fino ora, anche considerando che comunque, come nel caso di Castiglione ha dei partiti, magari in lista, che non hanno il simboletto e anche con l'apparentamento fatto da Cocciola, vi sentite a posto con la coscienza per le scelte fatte finora? Sì, noi abbiamo fatto un'analisi, perché ovviamente l'abbiamo fatta, c'era una comunità politica che per quello che ho detto prima non voleva venire di qua per ovvi motivi, non c'era la continuità elettorale, mettiamola così, e abbiamo fatto un'analisi, noi abbiamo un motto, il motto nostro è solo Ortona nella testa, questo vuol dire che abbiamo anteposto Ortona a tutto, io sapevo di poter prendere il dileggio, le telefonate, perché ora il sindaco ha narrato di una campagna elettorale che però i cittadini di Ortona conoscono, non è che glielo devi dire come è stata fatta, io questo però ce l'ho messo in conto, da buon cattolico ho pensato che nessuno porta una croce che non sappia, che non possa sopportare, però ho anteposto la situazione di Ortona, la situazione di Ortona era realizzare questi progetti e quindi io non devo rispondere ad una coscienza politica, perché siamo in campo amministrativo, io devo rispondere ai cittadini e quale era la migliore soluzione per dare attuazione a questi progetti, fare il gioco di chi si è apparentato di nascosto con Castiglione o fare il gioco di una trasparenza per dire questo è il nostro progetto, questi soggetti lo vorranno portare a termine, perché poi mi si deve spiegare perché il presidente dell'Ortona calcio osannato in questi giorni perché è andato sopra di categoria, non possa essere buono al contempo a fare l'amministratore, perché Fabio Palermo, diamo i nomi e cognomi, che rappresenta gli avvocati nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, rappresenta gli avvocati di Ortona, non possa andare bene ad amministrare, Franco Vanni con le sue battaglie che quando con Leo Castiglione sfilava per il corso andava bene, sceglie il nostro programma e improvvisamente non va più bene, qui siamo in un comparto amministrativo e la mia coscienza risponde ai cittadini di Ortona, le mie idee politiche le ho, ma io non sto a Roma, io non sto votando le leggi, devo fare in modo che la città di Ortona cresca e questa mia coscienza non è tranquilla, di più è rafforzata, perché in questa maniera noi stiamo proponendo alla città di Ortona un'opportunità, perché guardate fino al 2027 i comuni avranno due bilanci se vogliamo in qualche modo paralleli, quello proprio e quello europeo con il PNRR è ovviamente il governo, il governo italiano in questi giorni ha fatto il decreto siccità, noi abbiamo l'acqua ai Saraceni che si sperpera acqua, 80 litri secondo d'estate, 60 litri secondo d'inverno, nessuna proposta di captazione delle acque, eppure il problema siccità esiste dappertutto, con chi lo risolvo questo? Con quel patto ad escludendum che ha detto non lo devi risolvere, non ti devi alleare, non devi andare con nessuno perché noi dobbiamo essere rieletti, questa è la realtà, noi quindi con la coscienza siamo tranquillissimi e non tolleriamo situazioni di questo genere, perché i cittadini di Ortona vengono prima di ogni accordo elettorale, di strette di mano che si sono tenute in comune per il futuro del Consiglio regionale. Castiglione? L'acqua che si disperde di Saraceni è un problema che il candidato Cocciola poteva affrontare benissimo nei dieci anni fa quando faceva parte dell'amministrazione Cocciola d'Ottavio Coletti, probabilmente ci sono dei problemi che lui conosce ma purtroppo fa passare adesso come una sua nuova idea, quella che avrebbe potuto fare benissimo, proprio in ragione di quel fatto di mettere insieme le risorse, le eccellenze, eccellenze che c'erano anche dieci anni fa ma che purtroppo non portarono a realizzare questa captazione perché ci sono dei problemi molto più grandi che vanno affrontati e che neanche questa amministrazione è riuscita a risolvere. Io credo che la nostra coscienza non è che sia a posto, sia la stessa coscienza del 2015, la stessa coscienza del 2017, perché noi, richiamo un attimo i fondi PNRR, il mio candidato rivale insiste, l'unico punto programmatico che ha portato all'attenzione dei cittadini di negomizia è l'ufficio PNRR, per noi l'ufficio PNRR non è altro che un altro carrozzone dove probabilmente mettere l'amico, l'amico dell'amico come succede molto spesso, noi invece i fondi li abbiamo già presi ma in ragione di un investimento che abbiamo fatto sulle risorse umane, sull'organico del comune, io nei miei cinque anni ho dovuto affrontare un'emergenza con 58 licenziamenti, purtroppo legati alla quota 100, ma ne abbiamo già riassunti 52, ma soprattutto abbiamo riassunto giovani, ingegneri, economisti, architetti, profili, alti profili che sono stati capaci già di intercettare fondi, posso fare l'esempio dei 5 milioni per la rigenerazione urbana che riguarderanno in particolare questo palazzo, Palazzo Corvo, Palazzo Farnese e il Convento Sant'Anna. Quindi dopo sulla centralità di Ortona, io ricordo sempre al candidato Cocciola che l'amministrazione sua di dieci anni fa ha svenduto la centralità di Ortona, perché noi siamo andati con Lanciano per quanto riguarda la CUC che è il centro unico di committenza, che è l'ufficio più importante, l'ufficio gare e la loro amministrazione, d'Ottavio Cocciola Coletti, decise di svendersi a Lanciano. Poi il SUAP a Chieti, eravamo usciti dal comitato ristretto dei sindaci, bene oggi questa amministrazione ha riportato la CUC ad Ortona, il SUAP ad Ortona, beneficio delle aziende e degli investimenti che l'amministrazione fa, ma soprattutto è rientrato all'interno dell'organo politico della ASR, comitato ristretto dei sindaci, dove c'è Ortona e con quel campanilismo ortonese che mi appartiene dico che Lanciano non c'è. Uscire dal comitato ristretto dei sindaci, se questo sindaco dovesse perdere, significa che anche Ortona uscirebbe dal comitato ristretto dei sindaci a beneficio di Lanciano. Sulla coscienza io rispondo prima alla coscienza umana e poi a quella politica, perché dietro ai nostri ruoli ci sono prima le persone e poi le istituzioni. Bene, grazie Castiglione, ora ci fermiamo per qualche istante, linea alla regia, torneremo tra pochissimo con il confronto tra i due candidati sindaci di Ortona. Allora, siamo tornati in collegamento qui dal Palazzo Corvo di Ortona, ringraziamo sempre l'Istituto Nazionale Tostiano che ci ospita per il confronto tra i due candidati sindaci, appunto si parlava nella domanda precedente di Rossano un po' di come si esponevano i candidati sindaci rispetto anche alla loro coscienza. Allora introduco anche io un tema che poi è stato uno dei temi che ha acceso anche molto questi ultimi giorni di campagna elettorale relativo proprio all'accordo che c'è stato tra le liste della coalizione di Di Nardo e il candidato Coccio. Un tema su cui soprattutto sui social si è anche probabilmente esagerato che però è un tema che entra di diritto in questa campagna elettorale. Ecco io chiedo proprio perché si faccia chiarezza su questo punto ai due candidati, iniziamo in questo caso da Cocciola, sul tema della città che è medaglia d'oro al valore civile, ecco quale sarà la garanzia che un sindaco darà proprio anche con la presenza nel caso di Cocciola di una forza come Fratelli d'Italia che è come leader nazionale Lameloni su alcuni temi anche relativi alla famiglia, ai diritti, ha delle sue posizioni abbastanza marcate. Quale sarà la garanzia di antifascismo che il sindaco comunque lascerà a questa città nei suoi cinque anni di mandato? Cocciola. Beh, innanzitutto l'antifascismo credo che sia un valore che tutti hanno compreso Fratelli d'Italia, non mi sembra che ci siano delle note di questo genere da parte di Angelo Di Nardo. Questi valori per me non è che siano fondamentali, sono alla base del mio essere e quindi li supero completamente perché quando si accetta un programma si accetta ciò che è dentro quel programma e quindi mi sembra di capire che il 20% della popolazione ortonese pensi che lì dentro, dentro a quel gruppo, a quello schieramento ci sia un riconoscimento totale ai valori della nostra Costituzione, della nostra Repubblica e quindi, e neanche si può tornare indietro al 45 per intenderci, visto che siamo nel 2022. Detto questo, per quanto riguarda il nostro schema e quello che vi ho già detto, non vorrei ripetermi, ma nel nostro programma, nel nostro modo di essere è palesato ciò che siamo, quello che a me ha meravigliato moltissimo, si parlava dei social, vedere l'onorevole Camillo D'Alessandro intervenire sui social dicendomi delle cose assurde, ma a parte questo, ma se teneva così tanto al proprio campo politico, al proprio blocco, perché non ha presentato una lista? Ho visto Silvio Paolucci molto attivo sui social, ma se teneva così tanto, lui è il capogruppo al Consiglio regionale, come ha fatto a consentire al primo partito d'Italia, il PD, a non presentare la propria lista in una città importante come Ortona? Cioè, se questa comunità era così preoccupata, perché non si è data da fare per creare una vera comunità politica da contrapporre ad un'altra forza? Io credo che questo non ci sia, nel senso che quello del nostro apparentamento, l'ho spiegato prima e non ci torno, nel senso che è per fare di Ortona una città finalmente che possa guardare negli occhi le altre città, la mia meraviglia è quale reazione c'è nei confronti di questi dirigenti politici che per conservare il proprio ruolo si sono trovati da Mauro Febbo, che poi mi si deve spiegare perché Mauro Febbo possa andare bene e Franco Vanni no, da Mauro Febbo a Silvio Paolucci, a Camillo D'Alessandro, per quale motivo questi non si siano riappropriati del ruolo che hanno autorevolissimo nella propria comunità politica? Non è forse responsabilità loro di quello che è accaduto? Se avessero realizzato loro un comparto politico dialogante fin dall'inizio e non finto, sarebbe accaduto questo? Io credo di no, il problema è che questo doveva, pensavano che non accadesse, perché per loro era più importante preservare, c'è una bellissima teoria di Robert Michels sulla preservazione della classe dirigente, è attuata ad Ortona. Grazie Cocciola, Castiglione appunto sui temi della città medaglia d'oro in qualche modo. La non risposta del candidato Cocciola credo radica lunga sui problemi che dovrà affrontare di ingovernabilità. A me avrebbe fatto molto piacere se dentro Fratelli d'Italia il candidato Di Nardo avesse dato qualche segnale di veramente di cambiamento e di avvicinamento a quei valori dell'antifascismo, così come avete posto la domanda, ma questo non è avvenuto. Io ricordo al candidato Cocciola che il suo sposo Angelo voleva denominare Piazza degli Eroi Canadesi Piazza Germania addirittura. Queste sono le realtà. Ricordo al mio amico Ilario Cocciola che il candidato Di Nardo nel momento in cui il Consiglio Comunale di Ortona con i voti all'unanimità ha concesso la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, lui è stato l'unico assente in quel Consiglio Comunale, assentatosi volutamente. Ma vado oltre. Quando Fratelli d'Italia, perché Angelo Di Nardo non ha portato istanze sul territorio, del territorio, dei cittadini in Consiglio Comunale, ha portato semplicemente, ha fatto il passacarte del partito che portava avanti istanze a livello nazionale e lui faceva, essendo il referente in Consiglio Comunale, così come è stato per il decreto ZAN. Un decreto ZAN che il Consiglio Comunale, la mia amministrazione, ha rigettato, ma ha rigettato insieme ai voti di Marcheggiano, di Laura Iubatti, di Simonetta Schiazza e di Emore Cauti. Tranne Marcheggiano, che però fa parte del progetto Cocciola, gli altri erano consiglieri comunali che oggi staranno insieme a Di Nardo. Io chiedo al mio amico Cocciola, se Di Nardo dovesse ripresentare quella mozione, come si comporterebbe l'amministrazione Cocciola? Allora, qui torniamo a quei valori giusti di antifascismo che la città di Ortona ha approvato, su cui ha costruito la ricostruzione sociale, non solo urbanistica, edilizia, ma soprattutto quella sociale. E questo apparentamento un po' cozza con la storia della nostra città. È stato detto prima, Ortona è stata M, taglia d'oro al valore civile, ha pagato un caro prezzo nella Seconda Guerra Mondiale, 1.314 vittime civili. Sono dati che non possiamo cancellare assolutamente, ognuno deve rivendicare quei valori e questo avviene anche e soprattutto attraverso una proposta che si porta ai cittadini, all'attenzione dei cittadini, ma una proposta amministrativa elettorale che deve avere delle fonti, delle basi solite e credo che non siano presenti queste fonti, queste basi nell'amministrazione. Grazie, grazie Castiglione. Altra domanda di Orlando. Sì, diciamo che nel nostro lavoro quotidiano siamo tempestati di chiamate o di sollecitazioni a cercare di dare risposte anche a due elementi importanti, due grandi emergenze locali che sono la richiesta di servizi migliori nella sanità pubblica e l'emergenza lavoro, che sono poi le realtà e le emergenze che sono più vicine a noi e al nostro territorio. Un sindaco deve lavorare per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Come intendete intervenire in questi due settori? Caccia. Allora, l'intervento in questi due settori, quello della sanità, non certo si risolve con la presenza, certo auspicabile, ottima la presenza, a frutto dell'accordo perché Castiglione con Camillo D'Alessandro e Silvio Paolucci ha scambiato quel ruolo, diciamocelo, con il voto alla presidenza della provincia del sindaco di Vasto e quindi siamo entrati e quindi io francamente apprezzo la posizione di Ortona all'interno del comitato distretto dei sindaci, il comune di Lanciano non c'è ma non mi sembra che il comune di Lanciano abbia perso servizi sanitari. Il primo punto sulla sanità è molto complesso e il tempo vedo che scorre e quindi è complicato dare una risposta sintetica. Io sono stato segretario regionale per dieci anni del Tribunale per i diritti del malato e con Fragovani facevamo delle battaglie sulla sanità. Oggi noi ci troviamo nella necessità di avere, abbiamo per l'assurdo un ospedale vicino ma non abbiamo una sanità di prossimità. Se noi dovessimo chiamare un'ambulanza del 118 non solo non ci porterebbe ad Ortona ma arriverebbe dopo mezz'ora perché abbiamo una sola ambulanza. Questa la dice lunga sui servizi sanitari a che punto sono stati soprattutto negli ultimi 5 anni. Però questo è un metodo, è un sistema che va affrontato collegialmente. Io non credo che ci possa essere una maggioranza capace di risolvere il problema perché le competenze sono regionali. Ma c'è sicuramente, ci deve essere la volontà di un Consiglio Comunale Unito e noi dialogheremo con l'opposizione per fare una battaglia unita per riportare l'ospedale di Ortona al ruolo principale che aveva solo una decina di anni fa. E su questo si deve fare insieme. Non esiste una maggioranza che possa farlo da solo. Una maggioranza propone, ma insieme alla città si porta avanti questo tema. Sul fronte lavoro, sul fronte lavoro è il nostro tema principale. Ortona è una città, l'abbiamo detto prima, che perde abitanti. Abbiamo una perimetrazione ZES che è sbagliata. Pensate al Fagomen non rientra all'interno della perimetrazione ZES. Fortunatamente c'è venuto incontro l'Unione Europea che sta consentendo questa riperimetrazione. Ma non è solo questo. Quando io dicevo non essere nei gangi principali autorità di sistema portuale, il Presidente della ZES, il Presidente dell'autorità di sistema, il Commissario è un'altra cosa, chi coordina è quello. Ma è ovvio che il ruolo del Commissario è più importante. Ma quella funzione politica la noi siamo assenti. Nel Comitato di gestione Ortona non è presente e non l'ha rivendicato. Quando noi parliamo di PNRR è perché le aziende vengono sia i servizi sul territorio. Ora, ho capito l'ostilità del Sindaco al PNRR che dice che è un grande carrozzone. Per noi non è un grande carrozzone. È il sistema per consentire alle aziende, e non è a caso, gli altri comuni li hanno costituiti, per consentire alle aziende di entrare nel territorio, dare servizi e quindi le aziende potranno essere attratte se ci sono servizi sul territorio. Ma se tu non intercetti quei fondi per fare i servizi, le aziende non verranno. Questo è il problema lavoro che ovviamente in questi pochissimi secondi è impossibile da rispondere. Vediamo se ci riesce Castiglione. Due risposte in una. Ospedale. La presenza di Ortona nel Comitato di gestione dei sindaci ha portato già i suoi risultati. Due milioni già previsti nella ripartizione dei fondi PNRR per la sostituzione di tutti i macchinari ormai vecchi all'interno dell'ospedale. Parliamo della radiologia, endoscopia e senologia. Mi dispiace constatare che il mio candidato rivale sconosce che all'interno di questi finanziamenti Ortona e rientra tra le 15 case di prossimità proprio che andranno ad implementare la medicina del territorio, un finanziamento di 910 mila euro, una casa di prossimità che verrà realizzata presso il nostro distretto sanitario. Questo serve a decongestionare l'ospedale proprio e quindi a ridurre i codici verdi e rendere più efficienti i servizi essenziali che l'ospedale deve appunto fornire. Sull'ospedale sono d'accordo sul fatto della collaborazione perché ormai non bisogna piangersi più sul passato. Errori sono stati fatti. Oggi abbiamo un dato certo che Ortona è tornato a essere dal stabilimento ospedale di base. Io lavorerò all'interno del comitato ristretto per migliorare soprattutto i servizi. Dei segnali già ci sono. Ieri parlando con degli operatori abbiamo avuto qualche infermiere in più perché oggi il personale, il problema dei macchinari è importante, ma è importante anche quello del personale. Abbiamo visto a notizia di oggi Chieti ha chiuso la geriatria e quindi creando anche una conflittualità tra l'azienda e l'università. Io credo che su Ortona ci siano delle prospettive forti su cui lavorare tutti insieme, su questo siamo d'accordo. Fronte lavoro. Mi dispiace perché logicamente il bicchiere lo si vede mezzo pieno e mezzo vuoto. In questi cinque anni abbiamo lavorato sempre al fianco delle aziende, dei sindacati, delle associazioni di categoria, degli operai e credo che per esempio aver salvato la Yokohama sia stato l'esempio di un lavoro di squadra, di squadra, che ha portato a questo risultato. Certamente il momento adesso riguarda un po' tutto il mondo industriale e occupazionale, ma siamo vigili, ma soprattutto dobbiamo rivendicare anche che ci sono aziende nel nostro territorio che stanno investendo, potrei nominare la Tecne, la De Cecco, Tortella che è anche stata salvata. Insomma cerchiamo di ripartire da quei segnali positivi a livello occupazionale che vadano poi veramente a trasmettere un messaggio di fiducia, di speranza soprattutto ai giovani. Noi sul Consorzio Val Pescara abbiamo ripreso una delibera del 2007-2008 che era stata chiusa in un cassetto perché dobbiamo uscire assolutamente dal Consorzio Val Pescara perché le aziende, gli imprenditori devono avere un unico interlocutore che sarà il Comune. Inoltre grazie a questa amministrazione civica abbiamo ottenuto un milione che sono stati, diciamo, destinati dai fondi Cipe per realizzare la rete fognaria nella zona industriale. Noi facciamo la politica dei piccoli passi. Allora, ripartiamo ancora da Castiglione perché cambia il giro nuovamente. Sì, allora collegata a questa domanda ovviamente qual è la vostra ipotesi di sviluppo della città per questo mandato che state per ricevere? Credo che su questo argomento siamo tutti d'accordo. Ortona ha un patrimonio vario che veramente deve essere messo a sistema. Patrimonio storico-culturale, qua dove siamo nell'esempio. Patrimonio naturalistico, patrimonio paesaggistico, patrimonio enogastronomico, vitivinicolo. Beh, io credo che su questo noi abbiamo fatto delle scelte ben precise. Innanzitutto, quando mi sono insediato nel 2017, Ortona non aveva un ufficio turistico. Non c'era un ufficio turistico. L'amministrazione Cocciolo ad Ottavio Coletti avrebbe potuto fare quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo posto le basi per dare un servizio, per creare un raccordo sul territorio perché l'importante è mettere a sistema tutte quelle realtà, le attività ricettive, i commercianti che poi sono quelli che parlano con i turisti, che offrono servizi alle aziende vitivinicole. Oggi questo c'è a Ortona e da questo dobbiamo ripartire. Certamente il turismo, la via verde è la scommessa su cui tutti stiamo lavorando. Quando prima Cocciolo diceva che sono 5 anni e stiamo fermi. Beh, insomma, prendiamoci ognuno le proprie responsabilità. La provincia e la competenza della provincia, ma noi con la provincia abbiamo sempre lavorato e adesso stiamo arrivando alla conclusione. Il completamento del tratto a nord, sappiamo tutti, siamo in fase di completamento del progetto, da un milione e otto, finanziamento della regione, al quale bisogna aggiungere un altro milione e due per mettere in sicurezza le gallerie e l'erosione della costa. Quindi siamo in una fase addirittura d'arrivo perché la nostra via verde, sappiamo tutti, fa parte della ciclovia adriatica e dobbiamo realizzarla per forza. La ciclovia adriatica non può fermarsi ad Ortona, questo lo sappiamo tutti. A livello occupazionale certamente il punto di riferimento sarà il porto e la ZES, come già abbiamo detto, e su questo noi stiamo lavorando perché le aziende avranno la possibilità di avere sgravi e di venire ad investire ad Ortona, cosa che già sta accadendo e quindi il segnale è molto forte e credo che i prossimi cinque anni saranno fondamentali anche a livello occupazionale ma soprattutto per trattenere i giovani ad Ortona e dare loro una prospettiva di un futuro migliore. Ilario Coccio. Dunque, la linea di sviluppo della città è uno sviluppo basato su una crescita sia armonica ma veloce. Il sindaco quando parla, parla sempre di dieci anni fa, la dice lunga, sulla prospettiva di crescita della città. Se andiamo di dieci anni in dieci anni, probabilmente uno dei comuni più piccoli convinanti con Ortona ci supererà alla grande. Allora, la prospettiva di sviluppo è sulle direttrici principali. La direttrice principale del lavoro, l'abbiamo detto poco fa, siamo totalmente assenti, ora i salvataggi li fanno gli imprenditori, non li fa il comune, non mi sembra che il comune possa dare una mano certo al tavolo delle trattative, ma se l'impresa non vuole investire non è che va il sindaco e l'impresa investe. Da un punto di vista quindi sullo sviluppo industriale noi siamo molto determinati a fare muso duro contro la provincia perché finisca la famosa bretella autostradale di collegamento al porto e che con i fondi PNRR che vengono quasi diffidati ma quando poi arrivano, perché gli enti superiori li prendono, diciamoci la verità, è il caso dell'ospedale, ma l'ha presa la ASLA, non ha preso il comune di Ortona. Fanno i progetti e ovvio che cadono anche sul territorio, ci sono dei progetti però che deve fare il comune e quindi dobbiamo agevolare la crescita dei servizi in quella zona. Per quanto riguarda lo sviluppo turistico, questa sconosciuta perché l'intervento turistico del comune di Ortona in questi 5 anni è costato di circa 25 mila Euro, perché? Perché sono i soldi per l'ufficio turistico, ma investimenti, io forse avrò parlato con altri operatori turistici, sono tutti scontenti, non puoi fare un concerto per dono, 100 mila Euro per perdono, ma l'offerta turistica non esiste, non ci sono i parcheggi, a Riccio non ci sono i parcheggi, la ciclovia è vero, c'è un problema, ma il problema va affrontato, il milione e 8 c'è, ci sono fondi, c'è il progetto, ma diciamoci la verità, c'è la capacità di interagire anche a muso duro nella zona ripari di Giobbe. Ora, quella è una linea per noi fondamentale, ma noi sul fronte turismo diciamo di più, qui siamo a Piazza San Tommaso, noi ci siamo posti il problema di dialogare con i residenti, con le attività commerciali, ma non possiamo pensare al turismo religioso senza programmare neanche dei servizi igienici per quanti vogliano venire, un sistema di parcheggio adeguato. Sul fronte turismo c'è tanto da fare, perché parliamo dell'area della Sangritana con la pista ciclopedonale che possa andare fino ad Orsonia, perché poi il collegamento via San Leonardo, che passerebbe attraverso un'area non altamente trafficata e quindi facile da percorrere, potremmo collegarci alla Via Verde, senza dire il collegamento di sotto, quindi abbiamo una città nuova che vogliamo progettare, ma bisogna avere il coraggio di farlo con determinazione. Altra domanda di Rossamo. Sì, ovviamente per progettare e guidare questa città nuova occorre anche l'aggiunta. Ecco, come sarà l'aggiunta di Ilario Cocciola, sindaco, o l'aggiunta di Leo Castiglione, sindaco? Iniziamo con Castiglione. Meritocrazia oppure votocrazia? Quali sono i criteri? Io ho sempre unito i due elementi, quindi sicuramente attenzione al risultato elettorale, ma ancor più attenzione al profilo degli eletti scelti dai cittadini, sia per rispetto dei cittadini e sia per rispetto delle persone. Quindi la squadra, io non sono di quella scuola di pensiero che presenta l'aggiunta prima, la mia vita si è sempre basata sui piccoli passi e continuerò a fare questo. Quindi sicuramente sono tranquillo perché la mia squadra fatta di 80 candidati e nella mia squadra fatta di 80 candidati, costituita da 80 candidati e da tanti amici, collaboratori, sicuramente mi offriranno l'opportunità di scegliere il meglio a seconda delle deleghe che poi verranno condivise appunto con tutte e cinque le liste. Quindi io da questo punto di vista sono molto sereno e l'aggiunta servirà poi a continuare quella filiera perché adesso vorrei riprendere anche il discorso della filiera, si parla molto di filiera politica, perché per fare le cose qualcuno dice che bisogna avere quella filiera. Io ricordo che sempre dieci anni fa c'era un governo nazionale, regionale, provinciale, comunale dello stesso colore politico e non mi sembra che Ortona sia a livello di sanità, di occupazione abbia fatto dei passi in avanti. Questa dimostrazione che occorrono le persone, occorre il lavoro quotidiano. Io mi auguro che il candidato sindaco Cocciola dica, almeno questa sera, se chiuderà l'ufficio legale per dedicarsi H24 alla città come ha fatto il sottoscritto per questi cinque anni e salendo tutte le mattine alle otto in comune e scendendo la sera a fine lavori. Questo è molto importante perché ricordiamo tutti che il sindaco d'Ottavio questo non lo faceva, quindi è bene dare queste garanzie ai cittadini. Quindi io per quanto riguarda l'aggiunta credo che la filiera importante sia quella che parte dai cittadini per poi trasformare le istanze dei cittadini in proposte che la democrazia e il sistema amministrativo ci fornisce e quello delle istanze da portare in consiglio comunale per poi essere approvate, essere eseguite dall'aggiunta, dai dirigenti, dagli uffici, dai dipendenti. Questa è la filiera che a noi piace e che porteremo avanti come metodo di lavoro. Allora vediamo se Hilario Cocciola ci anticipa invece qualche nome dei suoi assessori. Allora ringrazio il sindaco che mi fa, già sindaco, per il fatto che si preoccupi per la mia attività lavorativa. Diciamo che è una preoccupazione di poco conto perché nella precedente amministrazione, visto che cita sempre dieci anni fa, si era ridotta dello stipendio dell'80%, questa amministrazione l'ha triplicato lo stipendio e di conseguenza la prima fase si era ridotta del 60%. Avendolo triplicato lo stipendio probabilmente potrei non avere dei problemi, ma io garantisco tutti che sarò presente dalla mattina alla sera perché guardi, io ho un piccolo problema, sarà d'insonnia, sarà chi lavora nella libera professione, io alle 5 di mattina ho la sveglia e oggi, non quando sarò sindaco, oggi io alle 5 e mezza sono in studio perché seguendo i pescatori soprattutto che alle 7 rientrano dal porto, possono testimoniare quelli della Capitaneria di Porto che io alle 9 ho già fatto 4 ore di lavoro. Chiusa questa parentesi anche personale che non vedo cosa c'entri, per quanto riguarda la questione dell'aggiunta, è un film già visto quello di Castiglione, aveva detto le stesse identiche parole 5 anni fa, poi ha nominato un candidato del centro-destra d'assessore, Marcello Di Bartolomeo, ed una candidata del centro-sinistra, Cristiana Canosa. Quindi se sono le stesse parole ci dovremmo aspettare un pescaggio nel gruppo di Francesco Terra e via dicendo. Quindi la nostra competenza, guardate noi due punti li abbiamo già messi a segno, il fatto di dover avere un'aggiunta competente e vi invito, lo dico senza voler essere, la legge prevede che si debbano pubblicare curricula sui siti, andate a vedere i curricula dei consiglieri comunali eletti, nostri, e dei consiglieri anche collargati e l'altro curricula. Io credo che all'interno della nostra sfera ci siano delle competenze altissime, quindi sarà per noi facile trovare queste competenze. Noi andremo a trovare delle competenze le più elevate possibili per tutti i comparti e devo dire non è che uno non si voglia sbilanciare, ma capite bene che il sindaco Castiglione ha detto non credo a quella linea, noi abbiamo già delle idee, lo dico con molta sincerità, ma credo che non sia opportuno per semplicissimi motivi. Se oggi dovessimo dire l'aggiunta, noi dovremmo dire anche il sistema di governo, questa è una cosa che si fa insieme. Abbiamo le idee molto chiare, le competenze molto chiare e le attingeremo sicuramente all'interno del nostro gruppo, perché consentite, ma l'ho visto le competenze, non vogliamo andare ad una politica a ribasso. Bene, allora ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa, poi torneremo per il gran finale del confronto tra i due candidati sindaci di Ortona. Linea Andrea Di Fabio e Reggio. Allora abbiamo quasi esaurito i temi di questo confronto, penso molto interessante tra i due candidati sindaci di Ortona, c'è un altro che, uno che però è stato molto evocato anche qui, dicevamo proprio anche e soprattutto sui social in questi ultimi giorni di campagna elettorale, si riferisce al futuro del porto di Ortona. Ecco, su questo chiedo ai due candidati, visto che appunto è uno dei temi che anche nei comizi è stato molto evocato in città, se dovesse essere riproposto, visto anche il momento che vive il paese, un progetto di realizzazione di un impianto per il trattamento del gas all'interno dell'area portuale di Ortona. Quale sarebbe la posizione dell'amministrazione comunale? Castiglione. Allora, innanzitutto voglio precisare e ricordare al mio amico Cocciola che il sindaco Castiglione non ha aumentato e triplicato le indennità. L'amministrazione d'Ottavio per motivi elettorali decise negli ultimi mesi, anzi per motivi di un consigliere comunale, decise di ridurre le indennità del 60%. Io per un anno e mezzo ho percepito l'indennità da sindaco di 950 euro al mese, per un anno e mezzo, dopo un anno e mezzo, dopo aver risanato il bilancio, ho riportato l'indennità a quello che prendeva d'Ottavio, 1650 euro al mese. Quindi questo credo che sia l'occasione per chiudere questa polemica, che veramente non penso che interessi molto ai cittadini. Per quanto riguarda il porto, noi abbiamo detto chiaramente, ma non detto, noi abbiamo fatto, quindi con i fatti abbiamo dimostrato la nostra contrarietà al progetto Sistoc. L'abbiamo fatto nel 2021, se non ricordo male il 17 febbraio 2021, l'Inmise ha bocciato definitivamente il progetto Sistoc. Ci tengo a precisare che non esiste nessun altro progetto, nessun altra variante a conoscenza di questa amministrazione di un progetto simile. Se invece, siccome il candidato Coccio la parla, che esiste un progetto alternativo, un progetto, una variante, non lo so, se lui ha conoscenza, io questo non lo so. I cittadini una cosa sanno, sempre per quella coerenza e trasparenza di cui parlavamo all'inizio, che con l'amministrazione Castiglione, quel progetto sotto al porto, sotto la passeggiata orientale, non vedrà mai, mai il suo battesimo. Questo è un dato che era scontato, perché i cittadini hanno visto quello che abbiamo fatto a fianco dei cittadini, a fianco delle associazioni, a fianco di quei movimenti che hanno dimostrato con le osservazioni la propria contrarietà, e noi continuiamo a percorrere quella strada. Io credo che lo sviluppo di Ortona debba essere fatto anche di coerenza. Dobbiamo decidere cosa fare, puntare al turismo, puntare ai nostri patrimoni, che come abbiamo detto prima sono tanti, ma questo sicuramente le aziende che vorranno investire sul nostro territorio dovranno tenere presente, perché altrimenti troveranno sempre il no della mia amministrazione. Grazie, grazie. Castiglione Cocciola. Allora, il sindaco tornato sullo stipendio, evidentemente ha trovato la delibera che aveva lasciato adottare, se prendeva di meno probabilmente per il cumulo con lo stipendio del lavoro da dove veniva, ma è una questione fiscale, non è una questione di aver modificato la norma. Chiuso questo, sul progetto Sistoc, non è che sono contrario, di più. E se il Mise ha detto la parola tombale, andatevi a rivedere i verbali, ha citato solo le delibere che io ho realizzato come presidente del Consiglio Comunale, perché in politica si deve studiare. E io ho preso il sistema della legge Seveso e creato un percorso, mi diedero del matto quando organizzai da solo, con la contrarietà di tutti, al Teatro Tosti, un evento di confronto, addirittura chiamai un professore del Politecnico di Milano, che era sui grandi dischi di ingegno ed esplosivi, che era il CTU del disastro Viareggio, per fare chiusa, per creare la comunicazione che prevede la legge. Non puoi arrivare ad una delibera se non hai prima fatto una comunicazione, quindi l'ho creata. Poi si è fatto un Consiglio Comunale, il presidente convoca il Consiglio sul richiesta, ma ho agevolato la richiesta, addirittura mi sono dovuto inventare, siccome non era stato richiesto di farlo in una sede pubblica aperta, nel senso di fruibilità ampia, mi sono dovuto inventare sul richiesta, che non era in Consiglio Comunale, del Movimento 5 Stelle, per farlo alla sala Ede. Siamo stati tutti contrari, abbiamo votato tutti contro e sono orgoglioso che il Mise, nel momento in cui ha detto di no all'impianto Psystock, abbia citato solo le mie delibere. Ma chiusa questa parentesi, io non ho fatto un'affermazione, ho fatto una domanda. Siccome il Mise chiudeva, tuttavia, se dovesse cambiare il progetto, allora si riaprirà la strada. E siccome proprio al centro c'era una dichiarazione del sindaco Castiglione, a meno che non voglia vedersela direttamente con il centro, dove diceva, per ora è un no, dobbiamo dialogare, sostanzialmente questo, allora io mi sono posto il problema. Siccome il Mise ha chiuso in quella maniera, non è che ci sia un progetto, ma io sono d'accordo che lui dica di no, basta che non dica che gli altri siano favorevoli, perché il mio è un no secco. Ultima domanda nel merito di Rossiano Rolando, poi andiamo agli appelli finali. Io vi chiedo quale sarà il primo provvedimento da sindaco importante che prenderete una volta che ci sarà la ufficialità della vostra elezione e collegata a questa domanda ne faccio un'altra, ossia se sareste favorevoli a realizzare anche un osservatorio della coerenza, una sorta di verifica, di gruppo di verifica su quelle che sono state le vostre promesse elettorali in questa campagna. Esatto, sì, è ovvio. Un ufficio anche. La prima fase è emergenziale. Noi, entrando in comune d'estate, dobbiamo risolvere questo buco della bandiera blu, ad esempio, perché non è vero che un comune che la perde non la riprenda, altrimenti Alba Adriatica non so come abbia fatto. In realtà è tutto sballato, perché ci sono 33 parametri che non vengono presi in considerazione. Per noi è un'emergenza, perché deve dare sicurezza agli operatori turistici e anche un controllo la bandiera blu. Emergenza idrica. Abbiamo verso la siccità, facevo l'esempio del problema risolvibile, io non capisco quali siano questi macroscopici problemi che io non ho incontrato, dico sinceramente, solo che non ero in giunta, si dimentica che il Presidente del Consiglio Comunale fa una cosa diversa da chi è in giunta e dal sindaco. Ma occorre realizzare subito una captazione di quelle acque, aumentare i pozzi artesiani e sottrarre a un consumo diverso, inappropriato, dell'acqua potabile. La Sasi ci versa qualcosa come 160-180 litri secondo d'estate, 120-140 d'inverno. Ormai con questo decreto siccità può darsi che venga ulteriormente ridotto. Dobbiamo fare in modo che il problema idrico non sia un problema di così grave presenza d'ortona. E questo è nell'immediatezza insieme ad un piano parcheggi da gestire bene. Poi si andrà su un medio termine. Sul medio termine, è ovvio che puoi fare l'uno e l'altro contemporaneamente, aprire immediatamente un ufficio PNRR per intercettare i fondi e dialogare anche con la ASL, con la regione, con chi ha un dialogo per i fondi, con gli altri enti. Poi aprire, dialogare immediatamente con l'autorità di sistema. Noi abbiamo il porto di Ortona che non ha servizi igienici. Da Pescara vorrebbe partire un traghetto per la Croazia. Perché Ortona non ha avanzato la propria proposta? Quindi nel medio termine iniziare a ricollocare, dialogare con la Sasi, dialogare con la provincia e cercare di dare subito una risposta ai parcheggi. Di Ortona alla crisi idrica. E nel medio e lungo termine il grande progetto. Quello di una città nuova. Dicevo all'inizio la Sangritana, ma anche la distilleria di San Leonardo, tre ettari e mezzo della regione Abruzzo, che nessuno ci mette mano. Quello potrebbe essere una grandissima struttura di tipo turistico-culturale. E arrivare con una nuova pista ciclopedonale, ma un intervento anche sulla Marruccina e sull'area industriale. Insomma, i primi interventi sono strutturati sull'emergenza e su quello che puoi fare in via emergenziale. Ma successivamente lavorare sul lungo termine. Le prime delibere della giunta Castiglione, che in questo caso sarebbe Castiglione Bis. Cinque anni fa dissi che la prima delibera di giunta che facevo era la revoca della delibera di giunta dell'amministrazione di Ottavio Cocciola Coletti, di revoca della manifestazione di interesse per il progetto Sistoc, cosa che ho fatto immediatamente. Per coerenza dico anche che la mia amministrazione, il primo atto che delibererà in Consiglio Comunale sarà sicuramente l'adozione del piano di maniale marittimo, unico neo che purtroppo per motivi tecnici, perché è così, però noi non l'abbiamo potuto adottare. Perché la delibera è già pronta, dobbiamo solo portarla in Consiglio Comunale. Però ricordo anche che dopo 28 anni abbiamo approvato il piano regolatore della città, cosa che sempre l'amministrazione dieci anni fa non riuscì neanche a portare in adozione, e abbiamo dopo 12 anni finalmente l'autorizzazione del dragaggio, perché si continua a parlare di porto, ma non si dice che il dragaggio dal 21 aprile abbiamo finalmente l'autorizzazione del porto, e dopo l'estate si inizierà a dragare e portare i fondali a 9 metri, 9 metri e mezzo con beneficio per tutte le aziende e anche per un sviluppo turistico importante e croceristico. Dopo 20 anni stiamo per riaprire il parcheggio Ciavocco, questo è un dato importantissimo. Finalmente Ortona avrà una nuova riorganizzazione della mobilità sostenibile, della ciclabilità. Abbiamo promosso già nel nostro programma, l'abbiamo indicato, una viabilità, una mobilità a chilometro 30, che servirà proprio a decongestionare il traffico cittadino. E su Piazza San Tommaso, che prima veniva riferito dal candidato Cocciola, noi abbiamo previsto, sempre con la riapertura del parcheggio multipiano Ciavocco, di creare la ZTL, per creare veramente quel centro storico che possa qualificare, riqualificare e qualificare il vero centro storico della nostra città. Per quanto riguarda, prima Cocciola citava la distilleria di San Leonardo, siccome è un argomento molto vicino, perché è il mio luogo di residenza, lo posso rassicurare, perché ci sono interessi da parte di un'importante azienda ortonese, proprio per rilevare quello spazio importante, proprio per lo sviluppo, e qui, questo lo dico, proprio per rappresentare come questo sindaco, questa amministrazione, si è relazionata con le aziende, con gli imprenditori, parlando quotidianamente con loro e cercando di favorire, agevolare i loro rapporti con le istituzioni sovraordinate. Allora, consigliore, beh, siamo alla fine, insomma, siamo tutti anche un po' stanchi, anche un po' provati da questa, soprattutto i candidati, Noi siamo allenati. Da questa maratona elettorale, è il momento tradizionale, liturgico, direi, degli appelli conclusivi agli elettori, si dice che nel ballottaggio bisogna rimotivare, soprattutto i propri elettori, ma io ricordo a tutti, che a Ortona ci sono 10.000 aventi diritto che non ci sono andati a votare, nemmeno al primo turno, e potrebbero essere decisivi, chissà, anche loro. Allora, è il momento in cui voi, la telecamera e il silenzio assoluto da parte degli altri, per l'appello conclusivo, Ilario Cocciola. Noi vi chiediamo la fiducia, dovete dare concretezza dei sogni che si possono realizzare, solo con un'amministrazione ampia, con delle grandi competenze e capacità, con un programma che abbiamo sviluppato in tutti i modi, bene, solo così Ortona potrà sollevarsi da questo torpore, iniziare a ritrovare il proprio orgoglio, ad essere presente nei tavoli che contano, a non essere chiamata in causa solo come commensale scomodo. Ortona dovrà ritornare a crescere, a trovare occupazione, a far sì che i cittadini di Ortona possano guardare con orgoglio le future generazioni e dire io ho contribuito a fare questo anche per voi. Ortona deve essere capace di riappropriarsi del suo ruolo nella regione Abruzzo. Noi questo l'abbiamo detto in tutte le salse, in tutte le nostre occasioni comiziali e l'abbiamo messo nel programma. Oggi noi vi chiediamo la fiducia perché per fare questo occorre un'aggiunta capace, un'amministrazione capace e occorre avere la capacità di interloquire senza sapere, senza pensare che ci possa essere qualche politico che per i propri interessi elettorali trovi scomodo intervenire su un senso anziché in un altro. Noi siamo forti su questo perché abbiamo un progetto che è condiviso forte per la sua crescita e che crediamo sia in grado di dare un futuro alle prossime generazioni. Grazie. Leo Castiglione. Noi ai cittadini diciamo che il futuro di Ortona è iniziato già da cinque anni fa. Qualcuno continua a dire che questo non è vero. Bene, saranno i cittadini a valutare. I cittadini dovranno valutare il lavoro fatto. Il lavoro fatto è il programma che si propone. Il lavoro fatto da noi è stato un lavoro basandoci sull'ascolto, sulla compattezza e soprattutto sulla concretezza e quindi nella realizzazione e nella risoluzione dei problemi della città. Noi vogliamo continuare a lavorare su questa linea e invitiamo i cittadini a fare una giusta valutazione dell'assicurazione di governabilità che può dare l'amministrazione Castiglione e l'amministrazione Cocciola. Io credo che ci siano delle grandi differenze. C'è uno storico che deve riportare l'attenzione dei cittadini a quello che è successo dieci anni fa e che oggi ha addirittura un aggravante che è appunto l'aggiunta di una coalizione che nulla c'entra con quella proposta all'inizio della campagna elettorale dal candidato Cocciola. Bene, noi ai cittadini chiediamo questo semplicemente un voto libero ecco, innanzitutto un voto libero un voto di consapevolezza un voto di responsabilità chiediamo che non sia però un voto qualunque un voto per una poltrona ma un voto, un voto per chi ama Ortona. Grazie, grazie Aleo Castiglione grazie Lario Cocciola siamo quasi alla mezzanotte devo ringraziare il quotidiano il centro per la collaborazione che non soltanto in questa ma in tutte le altre occasioni di trasmissioni elettorali ha prestato a Reteotto io il grazie lo estendo in questo contesto a Rossano Orlando Rossano, tra qualche ora chi non ha visto magari questo confronto all'inizio troverà in edicola anche ampio resoconto sì, sì, faremo un ampio resoconto anche di questo appello finale e poi domenica seguiremo passo passo lo scusino delle schede in modo tale che lunedì mattina siamo in edicola con un'edizione sempre forte sia a carica di cronaca che ovviamente di contenuti anche elettoralistici con il consuntivo del voto benissimo, noi invece domenica sera alle 22.45 grazie anche alla collaborazione dei candidati e dei loro comitati elettorali saremo in diretta con le nostre telecamere proprio per farvi seguire lo spoglio per il ballottaggio minuto per minuto sia a Ortona che a San Salvo appuntamento alle 22.45 di domenica grazie all'Istituto Tosteano che ci ha ospitato grazie Andrea Di Fabio a tutta la squadra dei tecnici di Reteotto buonanotte e agli ortonesi e ai sansalvesi buon voto, arrivederci buonanotte grazie a tutti